Ciao a tutti! Sono Paola, vengo da Berlino e per 5 mesi ho lavorato a Port Renone come volontaria del Corpo Europeo di Solidarietà. Questo è il mio progetto personale. Alla fondazione ANFAS Giulio Locatelli Onlos abbiamo molti progetti di inclusione e accoglienza. Insieme ai ragazzi di ANFAS abbiamo scritto, progettato e provato una canzone. Per il testo della canzone ci siamo posti molte dormande. Cosa è l'amore e cosa è l'amicizia? Che cosa significa per tutti noi insieme? Come possiamo vivere felici insieme? Ho fatto una bella cosa! Io sono andato su! Giordi lo sa già cosa hai fatto? Io sì lo so! La pensare che Maria non lo sa! Ah, love you! Dimmi love you! Fai una dedica a Simone allora! Una cosa bella da dire... Che ti voglio tanto bene! L'amore per me è una cosa importante perché un domani trovo l'amore serio, l'amore vero. Ti dà speranza, ti dà l'amore, ti dà l'amore, ti dà la sofferenza che hai dentro di te. L'amore è una cosa bella, il bene delle persone, l'amore. Ecco alcune immagini della preparazione del nostro progetto. Abbiamo dipinto immagini abbinate, scritto i testi su una grande tela e naturalmente cantato molto. E ora, la canzone Livri cantata con i ragazzi in Anfas. Grazie amore, tutti i diversi, tutti i fortalti, siamo gli artisti di un mondo d'amore, gioia e speranza, vita e amore. Cambia una mano, solita è la vita, cambia una mano, che gioia è finita. Ma com'è bello stare insieme, tutti i diversi, nel cielo, come il papà e l'alberto, noi felici saremo. Ma com'è bello stare insieme, tutti i diversi, nel cielo, come il papà e l'alberto, noi felici saremo. Il mondo non va, nel mondo da terra non c'è, ognuno è qui sa o è. Ma l'amore ci troverà, a te ci troverà, a te ci troverà. E' bello stare insieme, a te ci troverà. E' bello stare insieme, a te ci troverà. E' bello stare insieme, a te ci troverà. Grazie. Il mondo non va, il mondo, la guerra, la c'è, ognuno è un po' di saura e l'amore si porterà, 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 si porterà. Speriamo che vi sia piaciuta questa versione diversa di 50 speciali e siamo felici di avervi portato a RANFAS in questo progetto. Un grande ringraziamento a tutti che hanno reso possibile questo progetto. Alla prossima!